Anche la struttura Elysium scende in campo per sostenere il piccolo Chicco. Sarà possibile degustare presso la pizzeria Elysium un'ottima pizza e allo stesso tempo compiere un gesto di solidarietà. Infatti, scegliendo la pizza Chicco, metà del ricavato sarà devoluto ai familiari per sostenere il piccolo bimbo di 4 anni di Stella Cilento che necessita di cure in Australia. Siamo qui per fare in modo di aiutare questo bambino più sfortunato per cercare di risolvere il problema. Da questo punto di vista la grande famiglia Elysium ha aperto il suo cuore a Chicco e stiamo facendo una tornata con la nostra pizzeria dove abbiamo creato una pizza speciale che abbiamo chiamato Pizza Chicco. Chi verrà a mangiare la pizza Chicco qui da noi devolverà in automatico il 50% del costo della pizza per Chicco. Quindi vi aspetto numerosissimi qui da noi per andare avanti con questa iniziativa che sicuramente va fatta e spero che tutti quanti noi gli diamo un'ulteriore mano al ragazzo. L'idea è nata principalmente partita dalla gioia, da gioia pulso e io ho pensato di abbinare l'idea di beneficenza alla pizza nel senso che quindi chi vuol fare quest'opera di beneficenza può mangiare la pizza e allo stesso tempo contribuire a questa giusta causa. E noi come famiglia Elysium quindi abbiamo voluto sponsorizzare così questa iniziativa che poi per noi la tenevamo a cuore e devo dire che il pubblico sta rispondendo bene. Quindi chi vuole contribuire a questa cosa la pizza Chicco è qui, noi siamo qui all'Elysium, vi aspettiamo, io e Bruno vi aspettiamo. Come l'hai realizzata la pizza Chicco? Ho usato una vellutata di zucchine con provola di aggerola e una pancetta cilentana croccante.